I carabinieri della stazione di Gioia Tauro hanno sequestrato due aree che per numero e tipologia di rifiuti presenti erano diventate delle vere e proprie discariche abusive altamente inquinanti. La prima nei pressi di via Ciambra, sotto il ponte Petracce, nei pressi del fiume, a poca distanza dalla sua foce, dove è stata realizzata una discarica non autorizzata e contenente rifiuti pericolosi, tutti completamente sparsi su un'area pubblica di quasi 300 metri quadrati. Sul terreno erano presenti lastre di amianto, scarti di meccanica e autocarrozzeria rimosse dai veicoli, rifiuti della lavorazione del legno, pneumatici di varia natura e grandezza. La secondaria è costituita da una discarica di circa 150 metri quadrati, anche qui rifiuti di varia natura, tra cui pericolose lastre danneggiate di amianto e materiale di risulta proveniente da attività di demolizione edilizia. In entrambi i siti sono stati trovati anche oggetti ingombranti, che sono stati scaricati sul suolo pubblico. Ed ora i militari dell'arma stanno verificando l'eventuale presenza di combustibili e oli esausti che potrebbero aver inquinato il terreno circostante. Il sindaco di Gioia Tauro è stato nominato custode dell'area, in attesa degli accertamenti del caso da parte degli organi preposti e delle disposizioni dell'autorità giudiziaria di Palmi.